salve sono Michele Nicolai e sono qui con Lorenzo Improta e oggi parleremo di rendicontazione della spesa nella programmazione ventuno ventisette e quindi andremo a soffermarci su quelli che sono i principali elementi principali aspetti legati appunto alla rendicontazione delle spese sui progetti che avrete finanziato. Primo elemento da considerare è che chiaramente le regole da tenere conto per l'ammissibilità della spesa sono sia quelle stabilite dai regolamenti europei che quelle stabilite dalla normativa nazionale che infine le regole puntuali stabilite dalla normativa regionale. In particolare vedete richiamate nella slide quelli che sono i principali riferimenti normativi ad oggi in vigore in particolare il regolamento duemila ventuno mille e sessanta che è il regolamento generale sull'ammissibilità della spesa ai fondi, il regolamento duemilaventuno mille e cinquanta sette per quanto riguarda l'FSE, trovate qui richiamato anche i regolamenti della programmazione quattordici venti qualora fosse diciamo interessati anche alla rendicontazione degli ultimi interventi sulla vecchia programmazione, la normativa nazionale ad oggi il DPR ventidue duemila diciotto che dovrà essere in futuro aggiornato e la normativa specifica che può riguardare un'operazione che è quella che riguarda ad esempio gli aiuti di Stato o la normativa di settore pertinente rispetto all'operazione che deve essere applicata. Questi chiaramente sono i regolamenti ad oggi in vigore anche la normativa sugli aiuti di Stato è oggetto di aggiornamento e quindi sarà in tempi brevi approvata una versione modificata. Parlando di rendicontazione delle spese dobbiamo essenzialmente distinguere tre tipologie di costi che sono previsti dai regolamenti 21-27. Le operazioni finanziate a costi reali, le classiche operazioni in cui un progetto è finanziato per un importo X devo rendicontare l'importo X e dovrò quindi dare gli elementi giustificativi rispetto a quell'importo. Poi abbiamo delle operazioni che sono invece finanziate a tasso fisso. Anche in questo caso si tratta di dei costi semplificati ma essendo un tasso che si applica rispetto a una voce di costo che invece deve essere rendicontata a costo reale in qualche modo è un'opzione che diventa diciamo mista cioè che ricomprende sia una componente di costo reale che una componente di costo semplificato. E poi abbiamo le due opzioni interamente diciamo basate su costi semplificati che sono quelle dei costi unitari e delle somme forfettarie. In particolare il nuovo regolamento 21-27 prevede appunto tre opzioni di semplificazione dei costi che sono quelle di semplificazione dei costi e di applicazione i tassi forfettari che sono quelle relative ai costi indiretti che possono essere determinati o rispetto ai costi diretti ammissibili o ai costi diretti ammissibili per il personale con le diverse percentuali il cui regolamento stabilisce percentuali massime ma poi è il singolo dispositivo attuativo che dovrà andare a definire puntualmente quelle che sono le percentuali che si applicano. In questo caso il costo indiretto è riconosciuto in maniera forfettare rispetto al costo diretto e quindi come tale non deve essere giustificato mentre invece devono essere giustificati tutti quanti i costi diretti che sono riconducibili all'operazione. Seconda opzione di tasso fisso che viene prevista dal regolamento è quella relativa ai costi del personale. In questo caso sono i costi del personale che sono calcolati in maniera forfettaria rispetto agli altri costi e quindi in questo caso dovrò rendicontare tutti gli altri costi e i costi del personale invece non dovranno essere rendicontati ma semplicemente calcolati rispetto alla percentuale che è quella massima del 20% ma che poi sarà l'autorità di gestione del dispositivo attuativo che l'andrà a determinare. Terza e ultima opzione è quella invece di avere un tasso forfettario rispetto a tutte le voci di costo diverse dal costo del personale. In questo caso dovrà essere rendicontato il costo del personale le altre voci di costo invece sono rendicontate semplicemente con l'applicazione del tasso forfettario appunto fino al 40% dei costi del personale. Quindi in pratica le operazioni che potrete avere finanziate nell'ambito dei fondi sono operazioni che possono essere o solo a costi reali o solo a costi standard importi forfettari oppure possono essere delle operazioni che prevedono anche la previsione di finanziamento di parti delle operazioni con modalità diverse. In particolare abbiamo appena visto come i costi reali possono essere collegati al tasso forfettario una parte va a costo reale una parte va a tasso forfettario e poi volendo anche una parte a costo standard quindi un'operazione potrebbe vedere prevedere che una parte di questi costi vengono rendicontati attraverso un costo standard e quindi come tali non devono essere rendicontati. E in questo modo diciamo otteniamo quello che è il finanziamento totale. Quindi parlando di rendicontazione bisogna sempre fare attenzione di quella che è la modalità di finanziamento stabilita dal dispositivo attuativo e di conseguenza la modalità di rendicontazione è diciamo funzionale alla modalità di finanziamento che è prevista per l'operazione o per quella parte dell'operazione. Parlando di quella parte di spesa che deve essere rendicontata a costo reale ci sono alcuni elementi che devono essere sempre rispettati affinché una spesa possa essere considerata ammissibile. Innanzitutto la pertinenza. È chiaro che una spesa può risultare ammissibile a in assoluto e quindi essere ammissibile regolamenti alla normativa nazionale ma se quella spesa non è pertinente rispetto a quell'operazione chiaramente non è una spesa ammissibile. Un biglietto per New York può essere una spesa ammissibile in un percorso di alta formazione dove viene riconosciuto anche il costo di trasferta del ragazzo ma chiaramente per un corso di formazione fatto in regione Sicilia che non ha nessun impatto rispetto all'estero quella spesa diventa una spesa non ammissibile. Una spesa deve essere effettiva ossia effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o da documenti probatori equivalenti. È chiaro che se io non ho modo di dimostrare che ho sostenuto quella spesa quella spesa io non la posso rendicontare. Altro elemento fondamentale è la temporalità. La spesa deve essere sostenuta nell'arco del periodo di ammissibilità della spesa del progetto finanziato. Sulla programmazione 21-27 il periodo di ammissibilità del programma va dal gennaio 21 a dicembre 23 ma chiaramente sicuramente il progetto che avrete finanziato avrà un arco temporale più contenuto e quindi la spesa deve essere ricollocata all'interno di quell'arco temporale. Attenzione che vuol dire che sia il documento di spesa che la quietanza di pagamento deve essere obbligatoriamente sostenuta nel periodo di ammissibilità previsto dal progetto. Una spesa deve essere tracciabile ossia deve essere possibile andare a rintracciare la spesa stessa nel sistema di contabilità dell'impresa perché io controllore nel caso sempre di operazione finanziata a costo reale questo non è previsto nel caso di un'operazione finanziata a costo semplificato devo avere la possibilità di andare a verificare che sia stata correttamente diciamo tracciata nel sistema contabile e ultima l'evento deve essere correttamente contabilizzata nel sistema di contabilità della società perché affinché ovviamente quella spesa risulti correttamente imputata al beneficiario e quindi diciamo anche da un punto di vista fiscale correttamente sostenuta devo registrarla nel mio sistema contabile. Nel parlare ancora di rendicontazione della spesa quindi quelle che abbiamo visto fino adesso sono gli elementi generali che fanno ricondurre una spesa rispetto alla sua ammissibilità devo tenere conto anche di una serie di ulteriori elementi che sono il piano finanziario approvato ricordatevi sempre che il piano finanziario che avete avuto approvato rispetto a un progetto prevede determinate voci di spesa e che quindi in linea di massima quelle voci di spesa devono essere rispettate perché diciamo quello è il vincolo che il progetto finanziato ha avuto laddove ci fosse necessità di modificare le voci di spesa del mio progetto ovviamente devo sempre fare una preventiva richiesta o comunicazione a seconda dell'importo della modifica che devo fare perché se no quella spesa poi anche se potenzialmente ammissibile non sarà riconosciuta perché va a sforare quelli che erano le previsioni del progetto approvato. Ricordo poi che devo sempre dimostrare la riconducibilità della spesa rispetto al progetto approvato quindi quello che parlavamo prima di pertinenza della spesa rispetto al progetto approvato. Le spese devono essere sempre sostenute al di là delle regole puntuali dei fondi strutturali devono essere sempre sostenute nel rispetto della normativa vigente quindi è chiaro che un contratto di lavoro deve essere un contratto di lavoro regolare che rispetta quella che è la normativa sui diversi contratti di lavoro che possono essere sottoscritti un acquisto di beni o servizi dovrà rispettare quella che è la normativa quindi un'assunzione dovrà rispettare la normativa sui diversi stati e quindi al di là dell'elemento puntuale dell'amministrativa della spesa devo fare attenzione di rispettare quelli che sono eventuali massimali o importi stabiliti nelle norme vigenti. Scusami Michele solo un'integrazione per poi l'attenzione sul fatto che tutta la spesa e quindi la rendicontazione è ammissibile purché coerente col progetto approvato. Questa è una clausola diciamo un articolo previsto nel DPR 22 del 2018 sull'ammissibilità della spesa sarà quasi certamente proposto sulla norma nazionale di ammissibilità della spesa 2127 perché è fondamentale perché non esiste un qualcosa che non è ammissibile che non sia quello già espressamente previsto dai regolamenti. Il principio generale è che tutto è ammissibile e rendi contabile purché previsto nell'operazione stessa. Quindi devo fare molta attenzione nel costruire quell'operazione perché nel momento ovviamente che non sia in contrasto con le poche disposizioni previste dai regolamenti perché rispetto a quella ovviamente quella spesa è ammissibile e quindi rendi contabile tutto quello che era previsto dal progetto stesso. E quindi questo è un articolo molto importante da prendere in considerazione che ci auguriamo per il proposto anche nel DPR sull'ammissibilità della spesa 2127. Grazie Lorenzo e l'ultimo elemento che volevo porre alla vostra attenzione è la ragionevolezza del costo nel senso che in fase di controllo comunque il verificatore terrà conto anche se quel costo è ragionevole oppure no. Cioè se sto imputando una spesa di 100 per un qualche cosa che il normale prezzo di mercato è 50 è chiaro che quella spesa non è ragionevole e quindi al di là del fatto che ci siano meno dei massimali di costo rispetto al progetto quella spesa potrebbe diventare non ammissibile. Ulteriori elementi da prendere in considerazione sono l'attenzione a evitare doppio finanziamento o doppia imputazione di costo quindi è evidente che se un'operazione o una parte di un'operazione è finanziata con risorse pubbliche non può essere imputata su ulteriori risorse pubbliche in maniera contemporanea. Attenzione alla retroattività della spesa nel senso che normalmente è possibile riconoscere la spesa sostenuta durante il periodo di vigenza e di ammissibilità del progetto. Normalmente è previsto anche un periodo successivo di 60 giorni per l'imputazione delle sole spese collegate alla rendicontazione del progetto. In alcuni casi i progetti possono prevedere anche riconoscimento di spese di preparazione del progetto stesso ma questo deve essere chiaramente previsto e definito dal dispositivo attuativo. Ricordo scusami mi interro su questo nel senso che noi nella programmazione quattro decimente abbiamo vissuto moltissimo di queste che sono cosiddette spese recattive perché a seguito dell'emergenza Covid ad esempio ma non solo anche connessa al conflitto in Ucraina ci sono state da regolamento delle spese che sono state dette sono ammissibili a far dare dal primo febbraio del 2020 e quindi in casi particolari è la commissione europea stessa che dice che le spese si sono ammissibili anche se state sostenute precedentemente all'avvio del progetto di quel finanziamento stesso nell'ambito del progetto. Quindi ci sono casi specifici ovviamente che vanno visti caso per caso e quindi è sempre la doveria gestione che definirà esattamente cosa e quando eventualmente le spese saranno possono essere considerate ammissibili anche se ritrattive o meno. In linea generale sono d'accordo con te che in linea generale ripeto non è possibile rendi contare le spese già sostenute precedentemente al leader di ammissione a finanziamento di quel progetto ma sappiamo bene ci sono state delle eccezioni dovute ovviamente a fattispecie e situazioni particolarmente complesse come quella connessa al covid dove lì sono state rendi contate tutte le spese anticipate dallo Stato rendi contate a livello di ciascuna autorità di gestione del programma. Altro elemento importante da considerare è il cofinanziamento ovviamente spesso i progetti sono interamente finanziati da parte autorità di gestione ma in particolare laddove i progetti prevedono degli aiuti di Stato con un'intensità massima di aiuto è chiaro che bisognerà fare grossa attenzione a rendi contare anche la quota di cofinanziamento e utilizzare come cofinanziamento unicamente quelle voci di spesa che chiaramente sono previste dal dispositivo attuativo. Ulteriori elementi è che normalmente diciamo sui progetti non è possibile fare profitto e ci deve essere in qualche modo un pareggio tra diciamo le entrate e le uscite del progetto stesso. Parlando infine di rendi contazione delle spese è chiaro che possiamo fare un distinguo tra quelli che sono i costi ammissibili e i costi non ammissibili. Di norma diciamo possiamo considerare come spese ammissibili tutte le spese che non sono esplicitamente dichiarate non ammissibili da parte della normativa del dispositivo del regolamento. È chiaro che però bisogna fare attenzione che anche qualora alcune voci di spesa sono ammissibili il dispositivo attuativo o la normativa di riferimento può stabilire delle limitazioni a queste spese. Ad esempio il costo del tutor il vademecum in vigore nella programmazione 1420 della Sicilia prevedeva un massimale di costo pari a X e quindi è chiaro che attenzione bisogna sempre tenere conto di quelli che sono i livelli e i massimali in fase di rendi contazione dell'operazione. Come requisito generale affinché una spesa possa essere rendi contata è necessario che questa sia direttamente imputabile a un progetto o un investimento ammesso a finanziamento e riconducibile a una categoria di spesa prevista dall'avviso. Quindi non è sufficiente che una spesa sia ammissibile perché sia coerente e inerente al progetto ma è necessario che l'avviso e quindi il progetto che è stato approvato prevedesse quella categoria e quella tipologia di spesa. Questo perché ricordo sempre che l'avviso in quanto lex specialis può andare a definire e tagliare ulteriormente quelle che sono le spese ammissibili. Parlando di rendi contazione generale della spesa ci sono diciamo tre step di documenti che devono essere presentati per poter giustificare una spesa ammissibile e sono i documenti che originano la prestazione alla fornitura, i documenti che descrivono la prestazione alla fornitura e i documenti che attestano l'avvenuto pagamento della prestazione della fornitura. Quindi il documento che origine la prestazione alla fornitura, ad esempio abbiamo la lettera d'incarico per un personale, un ordinativo di fornitura, un'assegnazione di un incarico, i documenti che descrivono invece la prestazione alla fornitura avremo una fattura, una notula, un prospetto paga, quindi quel documento nel quale mi viene quantificato il costo che è imputato rispetto a quella voce di spesa che mi è stata diciamo documentata e poi il documento che mi attesta il pagamento di questa spesa, quindi il bonifico, l'assegno circolare, ma poi normalmente viene richiesto anche una copia dell'estratto conto proprio per assicurarsi che effettivamente quella spesa sia stata correttamente sostenuta. La principale voce di spesa che parlando di progetti FSE Plus troverete a rendicontare è la spesa del personale. Perché? Perché chiaramente diciamo sono le spese maggiormente significative su questi tipi di progetti e tra l'altro una delle opzioni più utilizzate di semplificazione dei costi oltre quella dei costi standard è quella di utilizzare il tasso forfettario del 40% sui costi del personale. Quindi è particolarmente importante soffermarsi su una corretta rendicontazione delle spese del personale. E su questo ci abbiamo due categorie di spese che sono il personale interno e il personale esterno. Il personale interno chiaramente è quel personale che è legato al soggetto beneficiario con un rapporto di lavoro subordinato o assimilato, mentre invece il personale esterno sono quelle persone fisiche con i quali il beneficiario stipulerà un contratto per ottenere una collaborazione. è chiaro che la documentazione a supporto di queste due tipologie di prestazioni è ben differente. In particolare nel caso di personale interno io dovrò andare a imputare sul progetto quello che è il costo orario o il costo giornaliero della risorsa che vado a imputare sul progetto. E su questo normalmente diciamo la normativa anche regionale non stabilisce dei massimali. ma sono il costo effettivo di quella persona per le ore per il tempo effettivamente impegnato sul progetto. Come vado a determinare questo costo? Andrò a determinare questo costo andrando a calcolare la retribuzione annua lorda più gli oneri sociali e riflessi più il tfrr e andrò a dividere questo importo per i giorni lavorativi previsti dal contratto e in questo modo ovviamente otterrò il costo orario. Quali sono gli elementi che devo prendere in considerazione per determinare in particolare questo importo? Sono tutte quante le voci retributive che contribuiscono al costo annuo lordo del lavoratore. Quindi le dodici retribuzioni mensili, le dodici buste paga, la tredicesima e se si è fortunati la quattordicesima, il tfr maturato. È chiaro che il tfrr anche se non è erogato perché è erogato alla fine io andrò comunque a calcolare quello che è la quota di imputazione del tfr rispetto all'anno di riferimento. L'eventuale indennità e tutti gli altri elementi che compongono l'ettribuzione lorda figurante in busta paga come indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mercato preavviso, quindi tutte quelle indennità che sono riconducibili comunque al costo ed è possibile ricomprendere nel costo anche eventuali monumenti arretrati purché siano direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento del progetto. A questo componente di costo andrò a aggiungere tutti gli oneri sociali e previdenziali che dovete sostenere per il lavoratore, quindi i contributi previdenziali, i fondi dipendenti obbligatori previsti dal contratto, eventuali fondi di previdenza complementare, l'assicurazione contro gli infortuni, gli altri costi sostenuti per il personale come servizi interni, welfare aziendale, corsi di formazione, addestramento eccetera eccetera, tutte queste componenti di costo mi contribuiranno quindi a determinare quello che è il costo anno del lavoratore e di conseguenza mi determineranno quello che è il costo totale che deve essere utilizzato come base di calcolo per stabilire il costo radio. Dopodiché è chiaro che nella rendicontazione io andrò a imputare quelli che sono le ore lavorate sul progetto e le andrò a moltiplicare per il costo radio che ho determinato in questa maniera e che dovrò dimostrare in fase di rendicontazione alla regione. Come documentazione a supporto della rendicontazione del personale interno io dovrò presentare l'ordine di servizio del personale e diciamo l'estratto del libro unico del lavoro a quale si evidenzia effettivamente che la persona è una persona diciamo dipendente del dell'impresa eventualmente anche i nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze INAIL e copie dei documenti di registrazione delle polizze INAIL. Dopodiché dovrò per quanto riguarda le attività corsuali presentare diciamo quelli che sono le ore che figurano dai registri delle attività didattiche mentre invece per le attività non corsuali dovranno essere presentati timesheet e appositi diciamo report che andranno a descrivere quella che è l'attività che è stata fatta da parte del soggetto interessato. E infine per la parte relativa ai pagamenti dovrà essere presentato il cedolino dello stipendio, il modello IMENS e altri documenti che attestano il versamento dei contributi e le ricevute per il versamento delle ritenute fiscali. È chiaro che nel caso di F24 cumulativi dovrà essere presentato inoltre un prospetto ripirurgativo che vada a ricondurre il costo del dipendente degli oneri al dipendente X rispetto all'F24 cumulativo che viene presentato e questo normalmente si fa con un'autodichiarazione da parte del beneficiario. Per quanto riguarda il personale esterno ovviamente il calcolo del costo è più semplice perché avrò un costo che o è già quantificato come costo orario o è quantificato comunque come in corso complessivo e andrò a moltiplicare quel costo per le ore effettivamente lavorate sul progetto. In questo caso ricordo come per la programmazione 14-20 erano in vigore dei massimali di costo che erano stabiliti in funzione della fascia di appartenenza del personale, questo per quanto riguarda l'attività di docenza, con un massimale appunto sia orario che giornaliero a seconda che la persona avesse più o meno anni di esperienza e quindi in fase di rendicontazione ovviamente bisognerà tenere conto di questi massimali nonché di eventuali limitazioni a questi massimali che possono essere stabiliti o dalla normativa regionale o dal dispositivo acquativo. Come documentazione anche qui a supporto di questa tipologia di costo abbiamo i documenti che originano la spesa, quindi la lettera d'incarico, il contratto che è stato sottoscritto, nel caso di personali a progetto dovranno andare anche diciamo a dimostrare, a dare evidenza appunto dell'attivazione del contratto a progetto, deve essere presentato il curriculum vita e proprio per poter verificare se si tratta di un docente gli anni di esperienza e quindi la riconducibilità a una fascia di appartenenza e poi i nominativi per i quali sono state sottoscritte eventuali polizie. Da un punto di vista di giustificazione dell'attività anche qui nel caso in cui si tratta di attività corsuale saranno i registri e quindi le ore riportate nel registro saranno le ore che potranno essere rendicontate. Inoltre diciamo sono previsti la presentazione, la necessità di presentare dei prospetti mensili con l'indicazione di tutte le ore svolte diciamo sul progetto anche perché normalmente per le diverse tipologie di attività possono essere previste anche delle ore di preparazione, di preesposizione della parte diciamo di attività didattica e quindi queste ovviamente non figurano sul registro ma dovranno essere inserite nell'apposito timesheet e poi anche in questo caso dovremo dimostrare che quella spesa è stata effettivamente sostenuta e quindi dovremo presentare la fattura, la parcella, la ricevuta che è stata presentata da parte del professionista che ha operato sul progetto ovvero un prospetto paga per le collaborazioni coordinate e continuative e poi le attestazioni dei pagamenti sia per quanto riguarda la parte di eh onorario al al collaboratore che per quanto riguarda anche in questo caso il pagamento delle trattenute eh fiscali e previdenziali obbligatorie a seconda della forma pensionistica prevista della forma di collaborazione prevista e anche in questo caso ovviamente nel caso di eh pagamento di contributi con F ventiquattro cumulativi è sempre necessario presentare anche diciamo un prospetto riopilogativo che dia conto di quelle che sono le spese eh riconducibili al singolo lavoratore rispetto all'F ventiquattro cumulativo. Timesheet. Timesheet vi ricordo essere diciamo un documento eh importante perché è quel documento che mi consente di ricondurre la eh le ore lavorative al progetto viene firmato e deve essere firmato dal lavoratore e dal responsabile dell'ente che diciamo attesta che effettivamente non solo ha svolto quelle ore ma che le ha svolte effettivamente sul eh su quel progetto. Eh il regolamento prevede anche la possibilità in alcuni casi di non presentare timesheet laddove il personale lavora al cento per cento su un'operazione o in percentuali fisse però questa previsione deve essere chiaramente definita dal dispositivo attuativo se no non è eh applicabile. Ricordo come elemento fondamentale nella rendicontazione delle spese del personale gli anni di esperienza e l'esperienza specifica. Gli anni di esperienza assumono una rilevanza fondamentale per il personale esterno proprio perché abbiamo visto che a seconda degli anni anni di esperienza il personale è riconducibile a determinate fasce fascia A, fascia B, fascia C e di conseguenza diciamo ci sono dei massimali che cambiano. Esperienza specifica è l'altro elemento fondamentale da eh curare con grossa attenzione perché in fase di controllo verrà sempre verificato per lo meno per quel personale per il personale docente verrà verificata la congruenza tra l'attività realizzata e l'esperienza professionale del soggetto. Quindi ad esempio se una persona deve insegnare eh matematica ed è laureata in eh lettere antiche probabilmente diciamo quella spesa potrebbe essere non riconosciuta e quella soggetto potrebbe essere non riconosciuta ammessibile perché diciamo non vi è evidenza di inerenza tra la competenza del personale e l'attività eh effettivamente realizzata e questo è un elemento da verificare e prestare molta attenzione sia per quanto riguarda il personale interno che per quanto riguarda il personale esterno. Ulteriori eh voci importanti di spesa da prendere in considerazione sono l'ammortamento e su questo diciamo eh in continuità come avete probabilmente sempre fatto anche nella programmazione precedente ricordo semplicemente che il regolamento prevede la possibilità di imputare su un progetto le quote di ammortamento relative a un bene utilizzato limitatamente al periodo previsto dal progetto stesso e che ovviamente il calco del periodo di ammortamento deve essere quello stabilito dalle tabelle ministeriali previste per quella tipologia di eh di bene eh che viene imputato sul progetto. Altro elemento fondamentale che abbiamo richiamato e che riguarda sia le operazioni in questo caso a costi reali che le operazioni a costo semplificato è il registro didattico. Il registro didattico è un po' l'elemento che mi consente effettivamente di attestare quella che è la eh sia le ore di eh attività erogate da parte del eh personale docente ma soprattutto anche le ore fruite da parte dei destinatari e quindi diciamo il registro didattico deve essere correttamente compilato con tutti gli elementi obbligatori previsti apponendo tutte le firme che sono necessarie del docente, degli allievi in entrata e uscita e se previsto e se presenta in aula del tutor perché attraverso il registro didattico costituirà il primo elemento di controllo che verrà fatto da parte dell'amministrazione e quindi al dirà poi che io vado a rendicontare una spesa di un docente, di un'indenità di un allievo o altro, il controllo se si tratta di attività corsuale ovviamente che verrà fatto è quello di coerenza del registro rispetto alle attività fatte e rispetto quindi alla quantità di attività che io vado a rendicontare e quindi come tale appunto è fondamentale assicurare sempre che ci sia una coerenza se il docente Mario Rossi da registro didattico ha fatto dieci ore di docenza è chiaro che io potrò andare a rendicontare al massimo il costo di quelle dieci ore di docenza se un'ora di docenza non è fatta, non è firmata chiaramente quell'attività, quella spesa non potrà essere rendicontata. Scusami Michele, integro solo con una piccola parte nel senso che l'elemento chiave è della documentazione da conservare perché è evidente che se un controllo dovesse venire a distanza di tre anni, ad esempio che è possibile la chiusura del corso, manca il registro, tutta la spesa effettivamente riconosciuta all'epoca non sarà più ammissibile quindi massima attenzione nella conservazione di tutta la documentazione, così come tutti gli altri documenti ovviamente di spesa di pagamento e di attestazione dell'attività, massima attenzione nella conservazione di tutti questi dati, altrimenti un controllo che può avvenire a distanza anche di diversi anni ovviamente potrebbe inficiare una spesa inizialmente riconosciuta e pagata e quindi si avvierebbe una procedura di recupero, quindi su questa massima attenzione proprio alla conservazione di tutta questa documentazione ai fini di controlli successivi da parte del secondo livello, autorità di odito, dalla stessa commissione europea a corte di controlli europei. Grazie, ultimi aspetti da evidenziare, stage, tirocinio, attenzione a dover presentare correttamente la convenzione di stage o di tirocinio, i registri e le comunicazioni inal obbligatorie per la copertura assicurativa. Spesso nelle operazioni sono previste le locazioni delle indennità di frequenza ai partecipanti e quindi anche in questo caso attenzione che affinché il partecipante abbia ritto un'indennità normalmente deve avere comunque frequentato una determinata percentuale di ore e quindi queste siano correttamente rilevabili da parte nei registri che evidenziano l'attività svolta e poi trattandosi di un'indennità se è prevista che venga rendicontata a costi reali, questa dovrà essere effettivamente rendicontata con l'evidenza dell'acquitanza di pagamento erogata ai destinatari. Selezione di allievi è un altro elemento trasversale di attenzione sia nel caso di operazioni finanziate a costi reali che di operazioni finanziate a costi semplificati e quindi dovrò comunque dimostrare sempre il rispetto delle procedure previste con i bandi di selezione, i verbali, la verifica dei requisiti e la graduatoria che è stata realizzata. Attenzione che alcune operazioni se prevedono l'utilizzo, la frequenza da parte di, l'ammissione da parte di uditori, questi devono rispettare determinati requisiti e devono essere correttamente rendicontati. Ultimo elemento, ricordo che nella programmazione 21-27 non è più ammissibile l'acquisto di mobili, attrezzature o veicoli a meno che queste non siano necessarie per raggiungere l'obiettivo dell'operazione o non sia l'opzione più economica rispetto ad altre forme di utilizzo di questi beni. In questi casi ricordo sempre la necessità comunque sia di garantire procedure competitive nel quale si dimostri il best value for money quindi che effettivamente ci sia stata diciamo una economicità nell'acquisto della fornitura e che non ci siano conflitti di interesse rispetto alle procedure di acquisto e poi ricordo che laddove l'importo fosse superiore a determinati importi devono comunque essere rispettate procedure previste dalla norma sugli appalti e quindi procedure elementi di tipo trasversale. Grazie a tutti e buona giornata. Arrivederci.